Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione Firenze si segnalano code per lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa. Ancora verso Firenze rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est. Spostandoci sulla 1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Si ricorda che la statale 223 di Paganico è chiusa per circa un chilometro e mezzo in direzione Grosseto nei pressi di Campagnatico a causa di uno smottamento. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!